Berlusconi, l'ho detto e lo confermo, noi siamo al governo in Lombardia da 12 anni e la Lombardia con questo governo, Lega PDL, ha fatto tante buone cose. È un'esperienza di governo che io voglio continuare, al netto ovviamente della pulizia che serve fare, che bisogna fare per cacciare e tenere la criminalità organizzata fuori. Però i punti sono questi qua, PDL li conosce bene, c'è qualche giorno di tempo ancora a disposizione, passato l'ultimo dell'anno, la baldoria dell'ultimo dell'anno, nei primi giorni si dovrà capire, si dovrà chiudere. C'è, ripeto, la porta non è chiusa, è quasi chiusa ma non è chiusa del tutto. La nostra posizione è quella, Maroni candidato governatore della Lombardia, con il suo programma che prevede il 75% delle tasse rimangono qua, si fa l'Euroregione, si abolisce l'Imu. Su questo programma c'è l'accordo e il sostegno del PDL, ben venga, altrimenti ognuno seguirà la sua strada. Ma il discorso di questa sera significa che non farete alleanza a livello nazionale? Grazie.